Casa Artigiani Abruzzo organizza domenica 1 ottobre a Giulia Nova un incontro con i toilettatori degli animali da compagnia. Lo scopo è quello di sostenere e valorizzare una categoria che annovera sul territorio regionale 90 imprese. Si tratta di un settore che sta lottando per ottenere un riconoscimento legislativo della propria professionalità che ogni giorno si esprime a favore degli animali domestici. Casa Artigiani si schiera al fianco di questi operatori poiché ritiene che la toilettatura sia un'arte artigiana che vada difesa e valorizzata. Per questo motivo si chiede di porre un freno all'apertura selvaggia di centri di toilettatura obbligando i futuri toilettatori a corsi professionali specifici che garantiscano e attestino competenza e capacità di chi gestisce gli animali. A oggi in assenza di quadri normativi chiunque a prescindere dalla propria formazione professionale può aprire un'attività di toilettatura arrecando secondo la categoria gravi danni al settore. Alla riunione interverranno il dirigente nazionale Casa Artigiani Paolo Melfa e la referente di categoria per l'Abruzzo Mariolina Serafini. I lavori saranno introdotti dal saluto dei coordinatori regionali Casa Artigiani Dario Buccella e Flaviano Montebello. Grazie.